Implementazione Modern Out con AspNet Core e Azure Active Directory Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere un esempio, un'implementazione pratica e il funzionamento di un'applicazione web con flusso di autenticazione CodeFlow di UALT2 Se non l'hai già fatto, ti consiglio prima di vedere questo video di andare a ripassare i concetti della Modern Out sui video che metto in descrizione Andiamo quindi subito ad aprire il codice, facciamo un esempio e commentiamo passo passo quello che succede e vediamo come l'ho fatto Eccoci qui, allora io ho la pagina web funzionante, sono nell'home page, non ho fatto login, come si può vedere qui c'è il pulsante sign in ancora da fare E la pagina privacy, in questo caso esempio un po' stupido, però la pagina privacy è protetta, è una risorsa protetta che mi verrà, devo quindi essere autorizzato ad accedere Quindi la home posso andare, faccio privacy, a questo punto vediamo cosa succede e vengo mandato sul fare una richiesta di login sul tenant di Azure Active Directory Però vediamo un po' più nel dettaglio, ricarico, vado con i developer tool, vado su privacy A questo punto vediamo che succedono un po' di cose Cosa succede? Che l'applicazione web mi risponde con un 300, 2, che è un redirect, lo vediamo qui E dove mi fa il redirect? Mi fa un redirect in questo indirizzo che lo posso anche un attimo selezionare e copiare E lo possiamo un attimo esaminare nel dettaglio più in grande qui su Notepad Allora, quello che vediamo è una conferma della teoria che avevamo disegnato sulla lavagna Quindi noi quello che abbiamo fatto è stato quello di fare una richiesta a un web server per una pagina protetta E quello che abbiamo visto è che abbiamo subito un redirect per andare a parlare con l'identity provider, in questo caso l'Azure Active Directory Quindi eccolo qui, l'abbiamo visto direttamente nel browser Tramite i developer tool il redirect è qui L'indirizzo è questo, dove ho client ID che identifica la mia applicazione web Già precedentemente registrata Il redirect URI che mi dice appunto dove la mia applicazione si aspetta una risposta Con il token incorporato, qui lo vado a spaccare ulteriormente Questo qui è un parametro dell'applicazione che poi vedremo Abbiamo il response type, abbiamo in questo caso un ID token perché stiamo facendo un open ID connect Stiamo utilizzando open ID connect che è costruito sopra o out Abbiamo uno scope, quindi l'ambito della mia richiesta Serve semplicemente per vedere le informazioni di profilo, quindi di me stesso La risposta viene data come una post di un form Nonce e state che gli evidenzio così Sono delle stringhe opache che vengono iniettate dalla libreria che sto utilizzando nel sito web Per evitare che i replay attack e cross site forgery In questa maniera sono sicuro, abbatte drasticamente il rischio Sono sicuro che le mie richieste di autenticazione e autorizzazione con i token sono legittime Cioè sono proprio venute dalla mia applicazione Tutte queste cose sono gestite da una libreria che ho utilizzato E non lo devo fare io, non devo scrivere io codice per fare queste verifiche aggiuntive A questo punto ritorniamo qui e vado a completare il mio processo di identificazione presso l'identity provider Quindi do il mio indirizzo, scelgo il mio indirizzo email, la mia identità In questo caso non ho una password ma ho una notifica su l'authenticator di Microsoft E dovrebbe arrivare la notifica quando io premo send Eccola qui, è arrivata in questo momento Faccio a prova sul mio telefono Ed ecco che io posso andare avanti e visitare la pagina di Privacy Policy Vediamo com'è successo È successo che l'identity provider ha fatto, ha validato la mia identità correttamente Ha fatto una callback all'indirizzo che gli avevamo passato prima Esattamente questo HTTPS localhost porta 7180 quello che è sign in o IDC È proprio lui È stato un redirect con una post come abbiamo specificato Ok, dove all'interno nel payload vediamo l'ID token Che è esattamente l'informazione che abbiamo richiesta Che è stata passata insieme per esempio allo state di prima Per la validazione della legittimità della richiesta È la mia applicazione Morale Ora ho qui il mio ID token Che è stato validato dall'applicazione Posso visitare la pagina Privacy Policy Ora non avviene più la richiesta di autenticazione Perché è stato impostato un cookie di sessione E il cookie di sessione lo posso vedere se vado su Privacy Headers Vado a vedere nei cookie E qui ci sono tutti i cookie di AspNet Core Quindi la tecnologia che io sto utilizzando Per evitare di nuovo una login Prima di vedere la parte applicativa Andiamo a vedere dentro la configurazione di Azure Active Directory Come registrare un'applicazione L'abbiamo visto nella nostra whiteboard È assolutamente fondamentale che tra la nostra applicazione Nel nostro web server e l'identity provider Ci sia una relazione di fiducia Quindi si devono conoscere a vicenda Quindi la prima cosa che bisogna fare è quella di registrare la nostra applicazione All'interno dell'identity provider In questo caso Azure Active Directory Qui sono dentro Azure Active Directory Portal.azure.com E vado su quella che è la App Registrations Qui sono delle applicazioni che io ho già registrato durante le varie prove E in questo caso questa qui è l'applicazione Modern Out 1 Come si registra? Beh è molto semplice Si fa New Registration Si dà il nome all'applicazione È un nome che deve essere user friendly Facile da leggere Deve avere un significato Non è un nome tecnico In questo caso è uno scenario Sto simulando uno scenario aziendale Dove vengono autenticati solo gli account di una organizzazione Di una azienda Non sto coprendo lo scenario di autenticazione tramite social Anche se i concetti di base rimangono quelli Però in questo caso è uno scenario single tenant Di una specifica organizzazione aziendale A questo punto vado a mettere i redirect URI Che sono gli indirizzi Dove la mia applicazione L'applicazione web Il server web Si attende di ricevere il token di autorizzazione Che lo vado a prendere anche dopo Perché lo vediamo Come si imposta la code base In questo caso faccio un register Ed è già fatto In questo caso ho un'applicazione che si chiama nome applicazione E vediamo qui Quelle che sono le informazioni principali Abbiamo L'application ID Che è l'ID di questa applicazione all'interno Del mio mondo Azure Active Directory L'object ID Che è un altro ID all'interno Proprio più specifico di Azure Active Directory Non l'application ID Che si usa nel caso di un flusso OAUT2 E l'ID del mio tenant Questi sono tutti i parametri Che io devo andare a mettere Quando utilizzo Quando faccio la configurazione Della mia applicazione web Nel caso specifico della mia applicazione Avevo A predestration Era questa Avevo questi valori Che sono stati messi Nei file di configurazione Andiamo a vedere come creare l'applicazione Dove sono stati inseriti Questi parametri Per realizzare quello che abbiamo appena visto Ho utilizzato un template Che c'è nell'SDK Di .NET In particolare un template Per una applicazione web Andiamo a vedere come ho fatto Allora mi sono messo in una cartella pulita AspNet Web Out Vuota Dove posso lanciare il comando .NET New MBC Con qualche parametro aggiuntivo Con il .NET New Andiamo a creare una nuova applicazione .NET Di tipo MBC Model View Controller Che sono le applicazioni web Diciamo standard Non stiamo parlando di single page application Con React e Angular Ma una normale web app In questo caso con Razor Vado a specificarli che È un'app che sia autentica Su una single org Quindi siamo in un contesto Diciamo Aziendale Per una singola azienda Non è quindi un contesto multi-tenant Vado a dirgli Il client ID Che io ho registrato Prevettivamente Su Azure Active Directory Poi vediamo come Do l'ID del mio tenant Di Azure Active Directory Quindi la mia directory E il dominio Del mio tenant Quindi informazioni Che io ho copio e incollato Dal mio identity provider Precedentemente configurato Che è appunto Azure Active Directory A questo punto premo invio Mi viene creato il template E lo apriamo con Visual Studio Eccoci qui dentro Visual Studio Quello che vediamo qui sulla destra È il classico progetto MBC Nulla di particolare Però quello che vediamo Dentro il program Che è dove Il punto di inizializzazione L'entry point Dove la nostra applicazione web parte Sono già un po' di righe di codice Scritte In particolare Queste parti di configurazione Per i servizi di autenticazione Ora c'è un dettaglio Quindi Azure Active Directory In questo caso Lo utilizziamo Con lo standard OpenID Connect OpenID Connect È sopra È costruito sopra Oout E aggiunge anche Quelle che sono Le informazioni Di identità Quindi non solo In questo scenario Gestiamo in particolare L'autorizzazione Ma Azure Active Directory Riciderà anche informazioni Sull'identità In questo caso Di me stesso Andando ad aggiungere Dei token particolari Però i concetti principali Che abbiamo visto Nei video di spiegazione Sono assolutamente quelli Quindi vediamo Questa aggiunta Delle librerie Per l'autenticazione Per l'autenticazione Con Azure Active Directory E poi qui in fondo Il middleware app Punto Use Authorization Dove ci immettiamo Nella catena Nella pipeline Dell'ASPNET Per andare a gestire Tutta la sua gestione Di Dei cookie Di autenticazione E autorizzazione Una cosa Un'altra cosa particolare È appunto Che Nell'home controller L'unica cosa Vediamo un authorize Qui in test Quindi sono tutte chiamate L'on controller Sono protette Da L'autorizzazione L'unica Che ha un'eccezione È La pagina Di Errore Che può essere vista Da chiunque Io faccio la stessa cosa Lo metto sulla pagina Index Così riesco a fare L'esempio Che per entrare Nella pagina Privacy Dobbiamo fare La login Come abbiamo visto Poco fa Una cosa Che faccio notare È che dentro L'app settings Si trovano Quei parametri Che Ho utilizzato Durante la riga Di comando Per La mia applicazione Tenent Durante il template L'applicazione del template Tenent ID Client ID E così via Che ho preso Dal Azure Active Directory Modern Out 1 Ok Application ID Object ID E directory Tenent ID Sono Sono questi Infine Il L'indirizzo Redirect Uri È il Callback Path Lo troviamo Qui In questo caso È sign in OEDC Che sta per Sign in Open ID Connect È specifico È così fisso Dalla libreria Utilizzata Per fare l'autenticazione Che io ho preso E ho messo Qui Nel Application ID Uri Redirect Uri Li ho messo Qui E li ho messo Localhost Pulito E ho fatto Anche Quello Vero e proprio HTTPS Localhost Porta Sign in OEDC Che sono fondamentali I redirect Uri Devono essere Registrati All'interno Dell'identity Provider Altrimenti La richiesta Di autorizzazione Viene Negata Per aggiungerlo Basta fare AD Uri E si inserisce Quello che serve Bene In questo approfondimento Dedicato alla Modern Out Abbiamo visto Cos'è un identity Provider Con Azure Active Directory Abbiamo registrato Una applicazione Per ottenere I client ID Il nome Dell'applicazione Dove impostare I redirect Inoltre abbiamo visto Come creare Un'applicazione Che utilizzi Questo identity Provider Partendo da Un template Passandoci I parametri giusti E come configurarli Se da questo video Hai imparato qualcosa Ti è piaciuto Mi raccomando Metti un mi piace Iscriviti al canale Così sarai notificato Sulle prossime uscite Ciao I desee i I desee i tu n'ulti Possiamo I desee i tu